Venerdì 14 giugno ricorre la quindicesima giornata mondiale del donatore di sangue. Presso la struttura trasfusionale di Eboli, in collaborazione con l'Avis di Giungano, è prevista una giornata dedicata solo ai donatori. L'orario delle donazioni è dalle ore 8 alle ore 12 e sarà possibile, oltre che donare, sottoporsi agli esami di donità al dono. La giornata è anche l'occasione in cui la struttura di medicina trasfusionale di Eboli, diretta dal dottore Pipolo, vuole ringraziare i donatori di sangue, che ogni giorno nel nostro territorio garantiscono la disponibilità di una risorsa terapeutica indispensabile per la vita di molti pazienti. Dona il sangue, salva la vita. Questo è lo slogan scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata mondiale del donatore 2019.